Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è SIC Parade, è SIC Parade, allora, 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 anche oggi, tutti i giorni, anche oggi, dacci oggi il nostro SIC Parade quotidiano, ragazzi, è SIC Parade, ma siamo arrivati a 69.420 iscritti, siamo a 69.450 iscritti, se volete oggi il doppio appuntamento nel SIC Parade, altrimenti domani ore 12, come tutti i giorni. Ogni giorno cascasse il mondo un nuovo episodio con il SIC Parade, la rassegna stampa più importante di YouTube Italia, no, non lo so se è la più importante, però mi piaceva dire questa roba qua. Dieci posizioni, dieci notizie di calcio del giorno, nelle quali vi aggiorno su quello che sta succedendo nel mondo e partiamo, come sempre, dalla posizione numero dieci per poi andare a salire. Lasciate tantissimi mi piace, scrivete qui sotto quelli che, secondo voi, quella che sono la notizia più importante di mercato o di calcio in generale. Partiamo dalla notizia numero dieci, partiamo dalle parole di Javier Tebas, che è il presidente della Liga, che ha detto una frase che era abbastanza scontata, in realtà, ha parlato a Dolé, però, insomma, dirlo fa uno strano effetto, no? Perché? Perché lui ha detto Mbappé andrà al Real Madrid la prossima stagione, il Real avrà una grande squadra, anche se non è una garanzia di vittoria. Si è affermato un quinquennale, avrà cinque stagioni per cercare di vincere la Champions League. Vabbè, Real Madrid ogni anno praticamente vince la Champions League, potrebbe farlo anche quest'anno. Il fatto sta che la conferma di Tebas, che è il presidente della Liga, ci dà un po' di pane, no? Cioè, ci dà... perché si è detto tantissime volte, tante volte abbiamo parlato di è fatta, tante volte non si è fatto, tante volte si è andato a tanto così da vederlo effettivamente riuscito e tante altre volte la cosa saltava. Perché una volta rinnovava Mbappé, perché una volta il Paris Saint-Germain si metteva di traverso, perché una volta Real Madrid si era stancato. Ecco, adesso ci siamo. Ci siamo perché Kylian Mbappé a giugno andrà in scadenza di contratto, perché non verrà rinnovato, non rinnoverà in realtà il suo contratto, perché Real Madrid lo ha già praticamente bloccato, lo riempirà di soldi nonostante il calciatore sia un parametro zero. Ora non mi va a desoffermarmi troppo su Mbappé e Real Madrid, vi dico la verità, anche perché oggettivamente ormai l'abbiamo capito, l'abbiamo detto in tutte le salse. Sono curioso non tanto di vedere Mbappé e Real Madrid, dove per me farà la differenza come fa la differenza ovunque sia campionato, sia Champions League, sia mondiale, quello per me non è un argomento. Sono più curioso, se vi devo dire la verità, di vedere invece Kylian Mbappé, anzi il Paris Saint-Germain senza Mbappé, perché secondo me senza prime donne, quindi il primo anno di estirpazione di Messi, Neymar, Mbappé, il Paris Saint-Germain potrebbe iniziare a costruire un progetto solido, intelligente e duraturo. Alla posizione numero 9 parliamo invece della Fiorentina. Fiorentina che al di là di come finirà questa stagione qualcosina deve cambiarlo. Ieri ha vinto 2-1 contro il Monza, ha rischiato di perdere, ha chiuso le speranze europee del Monza, perché il Monza, grande sorpresa, aveva un po' di speranze europee, avrebbe dovuto battere la Fiorentina e poi impegnarsi nelle ultime due. Alla fine il Monza si accontenta della metà classifica, che è un piazzamento comunque tanto positivo per la compagine Brianzola. Invece la Fiorentina continua a sperarci, continua a sperare di arrivare in Conference tramite il campionato, poi darsi una calmata, guardarsi intorno e andare a dire ok adesso vinco la Conference League in modo di qualificarmi all'Europa League. Molto del futuro della Fiorentina passerà chiaramente da che cosa porterà a casa. Se arrivi in Conference stai un po' più tranquillo, se poi vinci anche la Conference vai addirittura in Europa League. Diciamo che la Fiorentina affronta l'Olympiagos, quindi ha tutte le possibilità del caso di tentare di vincerla questa Conference League. E nel frattempo lavora per quello che è il mondo del calciomercato. E a riportare la notizia è un portale turco, stiamo parlando di takvim.com e parla della Fiorentina che avrebbe messo nel mirino Sebastian Zimanski. Zimanski per chi non lo conosce, se è un centrocampista offensivo o un esterno d'attacco, può fare uno o l'altro, della nazionale polacca e del Fenerbahce. Si è parlato un gran bene di lui, spesso viene inserito in argomenti e interessamenti di squadre di Serie A. Pare che però, almeno da quanto riporta il portale turco, la squadra italiana a dimostrare più interesse sarebbe proprio la Fiorentina. Zimanski, per chi non lo conoscesse, è un classe 99. Ma la cosa assurda è che in questo momento il club chiede 28 milioni di euro, una cifra sproporzionata. Dall'altra parte la Fiorentina è disposta ad arrivare ad un'offerta che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Cioè la differenza è abissale perché quello che offre la Fiorentina è meno di metà, metà sarebbe 14. Loro chiedono 28, invece la Fiorentina è disposta a spenderne 12. Ora, Zimanski è stato messo degli obiettivi principalmente perché è molto probabile che Nico Gonzalez potrebbe davanti ad un'offerta importante salutare in estate. Però l'interesse della Fiorentina non è spendere tutti i soldi che si fanno per Nico Gonzalez andando a prendere un calciatore che costi quanto Nico Gonzalez. Piuttosto alla Fiorentina piacerebbe risparmiare qualcosa, muovere quei soldi lì. Quindi mi è difficile da credere che la trattativa si farà, anche se poi, ripeto, il portale Turco lo dà come è molto probabile. Però ragazzi a queste cifre una squadra ne offre 12, l'altra ne chiede 28. Stiamo parlando proprio di due pianeti completamente diversi, ma completamente diversi. Andiamo alla posizione numero 8, ma rimaniamo sempre al Fenerbahce. Parlavo del Fenerbahce che potrebbe cedere Zimanski, ma attenzione perché i turchi stanno valutando le piste della panchina. Infatti il giornalista Ertan Suzgun che lavora appunto a stretto contatto con calcio e con quelle che potrebbero essere notizie di calcio ha riferito come Aziz Ildirim, figura di spicco che sta valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza del Fenerbahce avrebbe contattato, sarebbe in contatto con José Murigno. Infatti sembra che l'idea di Aziz Ildirim sia quella di candidarsi alla presidenza del Fenerbahce portando come campagna elettorale, perché lì funziona appunto con i governi, cioè ci sono delle campagne elettorali e tu voti il tuo presidente, che se dovesse salire da presidente porterebbe José Murigno. Ora io penso che sia fattibile, nel senso che se a Murigno lo riempi dei sordi, magari lui accetta anche di intraprendere un nuovo progetto tipo il Fenerbahce. Però boh, cioè il calcio turco forse per delle scelte, forse per una situazione comunque di mancanza di appeal nel passato non è ancora minimamente a livello delle grandi d'Europa o dei campionati più importanti d'Europa. Secondo me Murigno ha ottime possibilità di andare ovunque ancora, cioè anche banalmente, se si libera la panchina del Paris Saint Germain Murigno ci può andare, se si libera la panchina dello United Murigno potrebbe tornare, ora è finita male quindi non lo so però avete capito quello che intendo dire. Quindi vederlo al Fenerbahce sarebbe una ridimensione, un ridimensionamento importantissimo della sua carriera e anche un'accettazione del ridimensionamento, che è una cosa che secondo me Murigno ancora non farà. Però attenzione perché il nodo presidenza potrebbe veramente spostare gli equilibri. Non è detto che Murigno andrà al Fenerbahce come alla posizione numero 7, a questo punto non è detto che Tiago Motta andrà alla Juve. No, lo so, anch'io mi aspettavo che fosse detto, se ne è parlato per mesi come se Tiago Motta dovesse essere il nuovo allenatore della Juventus al 100%. E invece attenzione perché le parole di Divaglio un pochino rimettono tutto sul piatto. Perché Divaglio dice ci prepariamo alla prossima estate sapendo che il mercato sarà a lungo, ma con l'idea di confermare più giocatori possibili con la volontà di portare avanti questo gruppo, che ha delle basi solide e forti. E' chiaro che il Bologna se ne tiene tanti che hanno voglia di rimanere e ne compra degli altri può confermarsi. Però deve tenere solo chi ha voglia di rimanere. Cioè se ti faccio un esempio che non conosco, chiaramente Zierze magari ti dice io voglio andare via, è meglio che tu lo cedi e lo sostituisci. Prendi magari un Bonifaz, faccio un esempio, rispetto che andare a costringere i calciatori a rimanere e poi gioano contro voglia. Un po' come in casi diversi, qui si parla di Champions, lì si parlava di salvezza. La Saleritana ha fatto con Bulaiedia, forse in parte anche con Mazzocchi, visto che a gennaio se ne è andato di corsa. E ti ritrovi poi a giocare con giocatori che giocano contro voglia. Di Vaglio dice il primo passaggio sarà quello con il mister che ha portato alla ribalta questo gruppo straordinario. Vogliamo continuare e dare continuità con il lavoro straordinario che sta facendo tutto lo staff per poter continuare a fare bene e sognare. E questo è un punto molto molto importante. Ha quindi detto Noi siamo sempre andati in campo con la mentalità e la testa per continuare a fare bene, nonostante si parlasse di noi più in merito alle partenze di giocatori e mister piuttosto che ai risultati del campo. Siamo una società solida economicamente, con un enorme patrimonio umano con progetti e obiettivi ben chiari in testa. Abbiamo la volontà di confermarci nel campionato italiano e di confrontarci con le realtà europee, avendo il supporto dei nostri migliori giocatori. Sappiamo che il mercato è particolare e ci sono sempre tante novità. Quindi, grosso modo, quello che dice Di Vaio è vogliamo tenere i giocatori, vogliamo tenere l'allenatore. Ora, io ripeto, sull'allenatore si è detto tanto e sembra che sia destinato ad andare alla Juventus. Però attenzione, perché io lo dicevo già da qualche settimana, per me il Bologna non arriva, invece alla fine è arrivato, quindi bravi davvero. Tra l'altro è arrivato vincendo a Napoli e a Roma, quindi bravissimi. Però dicevo, se dovessi arrivare non sarei così sicuro che Tiago Motta decida di andare via. Perché comunque, cioè, si parla pur sempre di un allenatore che ha fatto un mezzo miracolo e che la Champions col Bologna se la potrebbe anche giocare. Cioè, sarebbe curioso vedere il Bologna giocarsi la Champions e Tiago Motta giocarsi la Champions col Bologna. Poi di andare via avrà tempo. Quindi, e poi la Juventus non è un progetto, come posso dire, sano in questo momento. È quasi un progetto tossico per quello che gira intorno. Cioè, se Tiago Motta arriva secondo, facendo un ottimo campionato, valorizzando anche dei calciatori, ma arrivando secondo. E magari uscendo agli ottavi di Champions. C'è possibilità che venga messo alla gogna da diversi tifosi, perdonatemi. Quindi, non lo so, io non escluderei questa possibilità. Passiamo a parlare della Roma alla posizione numero 6. Passiamo a parlare della Roma perché? Perché abbiamo capito che l'arrivo del nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare dalla Francia. Dovrebbe essere Florent Ghisolfi. Ghisolfi si era parlato prima di Modesto. Adesso si parla di Ghisolfi. Noi prendiamo solo gente con l'accento sull'ultima parola. Cioè, francesi. Si parla di lui come direttore sportivo. E il messaggero fa il nome anche di un calciatore. Ora, preparatevi. Perché adesso tutti i nomi che si faranno saranno sempre nomi in ottica campionato francese. Perché? Perché il direttore sportivo è francese, arriva dalla Francia e quindi è mercato facile. Mercato facile, notizie, giornalismo facile. Il giocatore di cui si parla in questo caso arriverebbe da Lille. Ed è Edon Zegrova. Esterno d'attacco classe 99. Che piace molto alla Roma e viene identificato come un calciatore che può fare molto molto comodo. Ora, Zegrova ha 25 anni. Vale una quindicina di milioni. Quindi per me sarebbe ideale, perfetto. Cioè, se proprio dovessi essere sincero non sarebbe nemmeno così strano andare a prendere Zegrova. Vi dico la verità. Il Lille, secondo me, per qualche soldino te lo dà. Quest'anno ha fatto 6 gol e 5 assist in Ligue 1. E in totale nelle competizioni europee. Con France ha fatto 3 gol e 1 assist. 3 gol e 3 assist in Coppa di Francia. Per la precisione ha fatto nella totalità della stagione considerando tutte le competizioni quest'anno. Comunque un buon ruolino di marcia. Pari a 12 gol e 9 assist. Inoltre può giocare alla destra e alla sinistra. Quindi diciamo che per quello che sta cercando De Rossi c'è un'ala a tutti gli effetti. Che comunque non costi nemmeno troppo. E che potrebbe diventare un calciatore molto interessante. Ma io sinceramente lo prenderei. Cioè è un giocatore che mi piace. E quindi ci andrei sul calciatore. Anche perché stiamo giocando con il Baldanzi, Di Bale, il Sharawi Ali. Il Sharawi ci sta, però gli altri un po' meno. Perché di Ali non ne abbiamo. Va detto che però, ripeto, questo è un nome facile. Perché arriva Ghisolfi e allora prendiamo Zegrova. È facile così. Vediamo un attimo se effettivamente l'operazione sarà fattibile. Vediamo un attimo se l'operazione sarà percorribile. Io non mi lamenterei. Io credo che si andrà verso quella direzione là. Comunque in calciomercato stile a cui sia la Zegrova. Giocatori mezzi sconosciuti. O comunque che stanno facendo discretamente bene. E costano 10-15 milioni. Che non c'erano più di 25-26 anni. E che ti danno la possibilità di valutarli successivamente economicamente. Passiamo alla posizione numero 5. Parliamo di Lazio. Quindi rimaniamo a Roma. E parliamo sempre di Mercato Facile. Perché come se non bastasse, anche questa volta si fa un nome per la Lazio. Che arriva dal Verona. Perché è sempre la stessa storia. La Lazio ha preso Tudor. E quindi tutto ciò che riguarderà la Lazio riguarderà il Verona. Mi considera un fastidio enorme e tremendo. Si è parlato veramente di tutti i calciatori. Da Amrabat a il ciolito Simeone passando per Barak. Tutti i calciatori che sono passati da Verona con Tudor. Adesso sembra debbano andare alla Lazio. E oggi esce anche un nuovo nome che potrebbe arrivare dal Verona. Ovvero Coppola. Difensore centrale. Che vi dirò fino a questo momento. Secondo me non è che abbia dimostrato granché per andare alla Lazio. Il Verona lo valuta a 10 milioni di euro. Ma è disposto a scendere per la cifra perché la ritiene trattabile. L'ingaggio è bassissimo e Coppola resta uno dei nomi interessanti per la Lazio per il prossimo anno. Io ripeto quello che vi ho detto. La Lazio ha una difesa che non è di livello. Ha preso anche giocatori dal Verona. Uno su tutti il centrale. E non sta dando abbastanza fritto. Perché Coppola dovrebbe farlo? Non lo so. Non lo so. E personalmente ritengo che sia tutto frutto di un calciomercato fin troppo facile. Perché ripeto. Se tu comunque sei la Lazio. Hai bisogno di un centrale. Hai bisogno di certezze. Tu comunque di a tre casale. Perché devi andare a prendere anche Coppola. Mi sembra una follia. Alla posizione numero 4 invece parliamo di Juventus. Si parla di un nome in uscita e di un nome in entrata. Il nome in uscita è quello di Adrienne Rabiot. Io vi ricordo anche in questo sic parete. Anche in questo caso. Che Rabiot è in scadenza a giugno. Aveva detto che avrebbe parlato. Però comunque a me mi sembra che a giugno manchi veramente poco. Quindi è normale che si parli anche di altro. Lui ha detto. Parlerò di futuro con la Juventus solo a fine stagione. E va bene così. Però in questo momento pare che il Bayern Monaco sia strettamente interessato ad Adrienne Rabiot. Lo vedrebbe perfetto per il centrocampo della compagina di Monaco di Baviera. Certo dovresti pagarlo parecchi soldi di ingaggio. Perché lui è un giocatore che ti chiede soldi. Anche per rimanere dove è. Figuriamoci sono tirato una barca di soldi per spostarsi e cambiare paese, squadre e tutto quanto. Dall'altra parte però è chiaro che bisogna fare una cernita. E cercare di capire che direzione potrebbe prendere questa situazione. O fossi il Rabiot c'è Andrea al Bayern Monaco. Tra l'altro per il Bayern Monaco secondo me sarebbe un ottimo colpo prendere Rabiot. A parametro zero. Perfettamente in linea con la politica del club. Nel frattempo la Juve lavora a quelli che potrebbero essere gli esterni del futuro. Ricordo che il nome adatto per il giornalismo è sempre quello di Tiago Motta. Quindi parlare di ali con la Juve che ali non ne ha. Se non chiesa è sempre una cosa positiva. Mettere nel calderone nomi per le ali rende credibile l'operazione di mercato. Allora la ragazzetta dello sport parla di un ala del Trois. Savio Moreira di Oliveira. Savio. Classe 2004 che quest'anno ha fatto molto 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 bene al Girona. Però ripeto non è del Girona è del Trois. Quindi se la Juve vuole prenderlo dovrà parlare con i francesi e non con gli spagnoli. Che in parte anche meglio visto che il Girona ha fatto una stagione pazzesca. E quindi rischiava di spararti cifre enormi. Semplicemente perché magari era in hype. Mentre il Trois forse è un po' più ragionevole perché qualche soldino gli può fare estremamente comodo. Detto questo posizione numero 3 saliamo sul podio per il Milan. Parliamo del Milan. Parliamo di Antonio Conte. Pensavo di dedicarvi un video. Forse lo farò quindi rimanete sintonizzati. Sul primo canale potrebbe uscire un video nel quale parlerò proprio della faccenda, della fire Antonio Conte. Si parla di Napoli, si parla di Milan, si parla un po' di tutti. E Stellini ieri, ne ripeto ne parlerò in un video dedicato, ha parlato della situazione usando parole abbastanza chiare. Dicendo che le possibilità di vederlo al Milan, facendolo intendere, ci stanno. Io leggo quello che dice il mattino. Il mattino dice che Ibraimovic e Furlani lo abbiano incontrato in gran segreto venerdì scorso. Che tra oggi e domani vedranno i suoi agenti. Però si dice che De Laurenti se ci stia ancora lavorando. Io ripeto, non so, io sul Napoli faccio un po' più di fatica. Cioè non escludo che possa essere un bel sogno per il Napoli, quello di vedere Conte a Napoli. Però De Laurenti solitamente cerca allenatori diversi, con un curriculum diverso, con un'idea di ragione diversa. Magari uno Stefano Pioli un po' più adatto a quello che solitamente cerca di creare eventualmente De Laurenti. Mentre per il Milan ci vedrei molto di più Antonio Conte, non ve lo nego. E addirittura pare invece che la Juventus piuttosto si terrebbe Massimiliano Allegri. Perché Conte proprio non lo prenderebbe. Nel frattempo parla Enrico Sacchi e parla del futuro di Pioli dicendo che tutto passerà dalla scelta del nuovo allenatore. Cioè il futuro del Milan secondo lui passerà proprio dalla scelta del nuovo allenatore. E lui dice se parliamo di un giovane dico De Zerbi, mentre se parliamo di esperienza preferisco Sarri. Lo ha detto alla gazzetta dello sport. Ora io Sarri è un nome che ho fatto a più riprese. Qualcuno mi ha detto Sarri vuole la Premier. È possibile che Sarri voglia la Premier. È possibile che Sarri abbia l'idea di andare in Premier League. Io non è un fattore, non è una cosa che escludo. Però io Sarri al Milan lo vedrei bene. Anche perché l'avventura di Sarri alla Lazio è finita in modo tempestoso, burrascoso. E permettetemi di dire anche un po' sorprendente. Non mi aspettavo che prendesse quella deriva lì alla fine dell'avventura di Sarri alla Lazio. E Sarri al Milan per me potrebbe fare molto molto bene. Su De Zerbi grazie. È vero secondo me che sia un italiano vuole De Zerbi. Questo è il momento per prendere De Zerbi. Nel senso che il Brydon quest'anno non è andato benissimo. Né in Europa né in campionato. L'anno prossimo potrebbe fare molto meglio. Oppure si potrebbe liberare qualche panchina più prestigiosa di Inghilterra. Quindi o lo prendi adesso e magari ce la fai. È vero che lui ha detto che vorrebbe rimanere. Ma insomma poi i progetti si devono studiare. E magari un progetto solido e serio lo fa anche un po' tremolare. Oppure secondo me in futuro sarà molto difficile che, a meno che non si muova una delle tre strisciate, che qualcuno prenda De Zerbi. Io faccio ad esempio il caso del Napoli. Quest'anno il Napoli potrebbe anche prenderlo. Volendo non sarebbe una sorpresa poi così, diciamo, impossibile. A proposito di Napoli, posizione numero due per il Napoli. Che pensa ad un attaccante ma pensa anche a Conte. Infatti vi dicevo c'è stato un incontro. Ne parla Alfredo Pedullà. Dice che il Napoli ha incontrato Antonio Conte a Torino. Ha proposto uno stipendio di 6 milioni e mezzo, 7 milioni a stagioni più due di bonus. E sembra lui il nome in pole per la panchina del Napoli. Ripeto, mi sembra strano. Io ci vedrei molto più Stefano Pioli. Anche se sarebbe un ridimensionamento importante. Cioè se il Napoli vuole vincere, vuole tornare a vincere, deve prendere Conte. Chiaramente deve prendere Conte o De Zerbi. O magari un ritorno di Sarri. Cioè i nomi sono quelli là. Ci sono poi dei nomi che non riesco a capire, ripeto. Pioli non riuscirei a capirlo molto bene. Cioè sarebbe in linea con le pretese, dicevo, di De Laurentiis. Però sarebbe un po' triste, no? Per il progetto del Napoli, secondo me, sarebbe un po' triste. Nel frattempo i partenopei valutano l'attaccante, vi dicevo. E l'attaccante in questione sarebbe Matteo Reteghi. Centravanti del Genoa e della Nazionale. Il Napoli sta pensando a come sostituire Victor Rosimane. E Reteghi potrebbe essere il nome adatto. Ne parla la gazzetta dello sport. L'alternativa pare essere, ve lo avevo già detto in un sink parade passato, Artem Dobvik, che è l'attaccante del Girona. Io, anche qua, nutro dei dubbi, ve lo dico con grande franchezza. Nel senso che per me Reteghi non è male. Ma se lo prende come vice, come sostituto di Simeone, non è male. Se lo prende come sostituto di Osimene, è male. Cioè, per me il sostituto di Osimene deve essere tipo Jonathan David. Poi poi prende pure Reteghi e li fai alternare. Però non puoi sostituto di Osimene con Reteghi. Con tutto il rispetto, Reteghi lo vedrò sempre come uno che farà pure tanti gol. Ne potrebbe fare pure vala anche di gol. Ma non sarà mai l'attaccante a livello iconico, a livello da scudetto, ad esempio, come è stato Victor Osimene. Dipende dai tuoi obiettivi. Se prendi Pioli e quindi l'obiettivo del quarto posto, secondo me Reteghi lo puoi anche prendere. Lo metti in titolare, lo metti lì davanti e va bene. E apri un nuovo tipo di progetto. Se invece prendi Conte, io non ce lo vedo Reteghi, titolare con Conte al posto di Osimene, vi dico la verità. Che poi a me Reteghi non dispiaccia, nonostante credo che non giocherà titolare in nazionale, specie per come ha chiuso Scamacca, penso il titolare davanti sarà Scamacca e mi auguro che effettivamente ci trascini come spero faccia. Però comunque al momento, se devo, allo stato attuale delle cose, parlare dei nomi che si fanno, Conte e Reteghi insieme non ce li vedo. Pioli e Reteghi sì, Conte e Jonathan David sì. Pioli e Jonathan David ci potrebbe anche stanca, perché Pioli ci ha avuto le au, quindi non è che... Però molto passa dall'allenatore, io so certo di sta cosa qua, molto passa dall'allenatore. E alla posizione numero uno, nuovo nome per l'Inter. Attenzione perché li facciamo tutti, ne parliamo un po' di tutti. Infatti Dunfri, se ricordo, scade nel 2025, a giungo del 2025, avevo già anticipato in un sick parade passato che l'Inter starebbe pensato di cederlo. Non vuole fare un altro caso a Skriniar, quindi non vuole perderlo a parametro zero, ma soprattutto l'Inter aveva provato a rinnovare il contratto qualche mese fa, prima che scadesse il decreto crescita e quindi avendo uno sconto importante sull'ingaggio, lui ha rifiutato, quindi adesso rinnovarlo significherebbe non usufruire del decreto crescita e l'Inter un pochino si è fatto aggirare i coglioni. Per questo Dunfri sembra essere il nome adatto per partire, per sacrificarlo. Può partire, lo vuole il Manchester United, lo vuole la Stone Villa, davanti ad un'offerta importante potrebbe andare via. E secondo me è anche normale che sia così. Si sono fatti tre nomi secondo la Gazzetta dello Sport, ma in realtà se ne è fatto anche un quarto che è il nome nuovo. I tre nomi sono quelli che abbiamo già sentito. Puntando sui giovani, Cagliode a destra della Fiorentina, parlando di giocatori esodici, Sugawara della Zed Alkmar, parlando di garanzie, se possiamo parlare di garanzie, perché comunque gioca già in una grande, conosce le pressioni anche se poi non ha mai fatto il grande salto, Wan-Bissaka del Manchester United. In questi casi ho i nomi che girano per l'Inter. Però c'è un nuovo nome, un nome molto interessante, anche se secondo me qualche soldino te lo chiedono, sto parlando di Amar Dedic. Amar Dedic è un giocatore del Salisburgo, è un classe 2002, è un calciatore che piace davvero a tanti, è un 21enne, è un terzino destro, non è un esterno ad esempio, può farlo perché può farlo, ma è un giocatore più difensivo, in carriera ha fatto il difensore centrale, del terzino a destra e del terzino a sinistra. Ha tenuto un buon range, quest'anno ha fatto comunque 5 goal e 5 assist tra campionato austriaco e Coppa Austriaca, ma soprattutto ha un valore circa di 20 milioni di euro con un contratto che scade nel 2027, quindi per me Dedic, se l'Inter lo vuole prendere, comunque 27, 28, 30 milioni dovrebbe andare a spenderli. È chiaro che comunque, se tutto va bene, Dumfries lo puoi anche cedere a 30, 35, quindi sarebbe comunque un importante ingresso economico che non escluderei e con Dedic potresti fare un nuovo tentativo, però è chiaro che poi molto dipenderà dai soldi che spendi, perché io 25, 30 milioni per Dedic oggi non li spenderei, 18-20 forse il tentativo lo farei, posto che però con Inzaghi devi plasmarlo, cioè Dedic è un terzino, non è un esterno, è un terzino, deve arrivare e deve imparare a fare l'esterno, in tanti l'hanno fatto, non è così tanto clamoroso, puoi fare anche l'esterno un po' più di difesa, perché dall'altra parte c'hai Di Marco, e con Carlo Sagusto c'hai Carlo Sagusto, quindi due giocatori che sanno fare anche, sanno anche difendere, fanno anche i braccetti, però sanno soprattutto offendere, cioè offendono molto bene, e quindi di là magari si va ad equilibrare, però non lo so, cioè se ti spendi 25-30 milioni per un difensore, poi un difensore deve imparare a fare l'esterno, tanto vale spenderli per un esterno, questi sono i miei duecentesimi, poi posso sbagliare o posso dire anche la verità. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è SIC Parade, fatemi sapere la vostra, con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, boccia all'alene come sempre, ci vediamo al prossimo video.